Maria Esposito è al centro di una polemica su Twitter. Ripercorriamo la vicenda dall'inizio. Scoprendo cosa è successo. Su Twitter. Dopo una recente dichiarazione di Maria Esposito. Rosa Ricci in mare fuori. L'attrice è al centro delle polemiche. Gente da tutta Italia, la critica a colpi di tweet. Ma cosa ha fatto la ragazza? Ripercorriamo la storia dall'inizio alla fine. Tutto ha inizio con un tweet pubblicato da Maria Esposito. Contenente una sua foto e questa didascalia. Una donna seria e di classe resta singolo fidanzata. Da sola o in mezzo a centinaia di uomini. Mentre una classica donna da quattro soldi non ci metterà molto a rivelarsi se stessa. Liquidità. La femminilità e serietà sono valori che non puoi fingere di avere. Il messaggio pubblicato dall'attrice ha subito attirato l'attenzione del popolo di Twitter. Ma cosa ha pensato la gente? La distinzione tra donne serie A e donne serie B. Affronte una settimana piena violenza genere. È davvero fuori luogo? Scrive un utente. Ti sei accorto solo adesso che Maria Esposito non sa scrivere parlare? Chiede qualcuno. Notando gli errori grammaticali fatti dall'attrice. Il profilo di Maria Esposito è semplicemente. Pazzesco il suo prossimo tweet nascerà principessa. Ha cresciuto un guerriero. A questo punto l'attrice si è accorta di essere stata fraintesa. Infatti, poco dopo, oltre ad aver cancellato il messaggio incriminato. Ha pubblicato un secondo tweet di scuse. Fatto esplicitamente come una mia questione personale. Aggiungo che è stata e non sarà mia intenzione sminuire altre donne. L'ho fatto lo farò. Però alla fine ha eliminato tutto. Di Twitter dimenticherà le sue parole? Ma soprattutto accetterà le sue scuse? Che ne pensi? Maria Esposito Instagram